In qualche mese è stata rimessa posto in maniera, nel senso con tutti i lavori antisismici, è totalmente rinnovata dagli infissi al tetto, al sottotetto che è la segreteria che è venuto un lavoro veramente eccezionale. La ditta ha lavorato, sono stati fatti bagni nuovi, pavimentazione, l'indicatura, eccetera. È una scuola che permetterà di avere i due corsi, a palestra, a tutti i servizi, ai vari laboratori, quindi segreteria e presidenza. Io credo che bisogna dare atto che la ditta Saedil, che ha vinto la palza, ha lavorato veramente in tempi rapidi, ma anche in maniera veramente molto, molto bene, con professionalità e quindi siamo rimasti insoddisfatti di tutto il lavoro di azione per questa scuola, in cui inviteremo i ragazzi di questa scuola ai genitori, anche gli altri dirigenti scolastici e la scuola del centro che il centro ha, finalmente, ma comunque credo che l'amministrazione che ha sempre lavorato sulle scuole, quindi il piano scuole sta andando avanti, ci sono ancora alcune cose che dobbiamo terminare, ma è stata una priorità, quindi dato che era una scuola che aveva bisogno di essere o messa a norma o dismessa, l'amministrazione ha scelto di metterla a posto, credo che sia una bella situazione per il centro, quindi adesso a breve decideremo la data anche per l'inaugurazione, per chiamare tutti a godere anche di questa bella struttura che è venuta fuori. Ho fatto degli interventi, diciamo, di ristrutturazione, abbiamo pitturato tutta l'elementare, la primaria di Padiglione e di Campo Cavallo. Poi abbiamo fatto a San Biagio, all'Arcobaleno, così che adesso hanno la possibilità di fare due corsi completi, anche lì, a San Biagio. E poi sono stati fatti dei lavori alla materna di Campo Cavallo, però questo è un po' strutturale, nel senso che con la neve dei cornicioni, delle finestre si sono stati un po' intaccati, quindi c'è avuto qualche problema e quindi sono stati risostituiti, quindi quello è stato proprio un intervento necessario, proprio di sicurezza. Casi nuove? Casi nuove ancora niente, però Casi nuove è quella che dovrà essere fatta di scuola pure. È previsto con la nuova ragione? Sì, nel piano ragione, sì, però lì veramente c'è lo spazio, perché comunque c'è tutto lo spazio esterno e è veramente la scuola che in questo momento avrebbe bisogno.